Buongiorno, io mi chiamo Cristina e oggi ci troviamo nel nostro Factory Store di Aromir. Proprio oggi vogliamo farvi vedere tutti i sistemi espositivi che abbiamo nel nostro negozio. Da una parte abbiamo questo sistema espositivo che si chiama Floor Stand, quindi è un espositore a perra. È capace di raccogliere tutti i prodotti della linea Cut&Doc ed è molto simpatico sia per i negozi piccoli che di media e grande dimensione. Vedete qua tutti in linea i nostri prodotti che comunque è un bel colpo d'occhio per qualsiasi tipo di negozio. In più se ci spostiamo troviamo anche le scatole espositori che raccolgono dai 12 fino ai 8 o 6 pezzi. Cos'è il vantaggio di queste scatole? Noi abbiamo messo un esempio per voi. Allora, questa è la scatola come arriva dal cliente in negozio. Qui in tempo per esempio tutti i shampoo e fast wash accolgono 12 pezzi e con un gesto di mano possiamo creare una scatola espositore che comunque fa anche da arredo. Quindi su qualsiasi superficie piatta, che sia un tavolo, che sia comunque una scasfale, questo sistema può anche funzionare da arredo. Quindi se guardate abbiamo il nostro floor stand per tutti i vini di prodotto, abbiamo varie possibilità di esporre i nostri prodotti con le scatole espositori e quindi vi facciamo un caro saluto dal nostro negozio qui ad Aromier.